Non si riesce a capire l'accadimento contro questo ospedale, quando altri ospedali dell'area, della regione, sono stati salvaguardati. Le assognazioni, i cittadini, tutti dell'area grecanica, oggi sono qui a manifestare contro la chiusura dell'ospedale di Medito. Tutti quanti lotteremo fino a quando l'ospedale di Medito non ritornerà ad essere quello che era, un prosiglio della salute. Non si riesce a mettersi dietro gli striscioni dei comitati per dimostrare che questa è una manifestazione della gente che non è più disponibile ad accettare che venga chiuso all'ospedale di Medito. Pretendiamo che l'ospedale di Medito ancora una volta ad essere all'ospedale che ha portato valute e benessere per il territorio. Non possiamo permettere che questo sfumato venga chiuso. Noi saremo qui a vigilare affinché questo non è meglio. Ma c'è un'autodolle che non mi ha scontro il nostro La grande manifestazione è oggi l'area grecanica, chi dà? Oggi questa bellissima manifestazione organizzata dai comitati, dai cittadini che sono convosti, tutti i cittadini dell'area grecanica, dimostra che questo territorio si vuole appropriare delle proprie radici, di una politica sanitaria, non soppre le persone a testo. Se noi siamo rienti, deve essere scritto il nome dell'America di Porto Salvo, lo spalare storico, quando esistono il canale di Mesa, quello di Reggio non era neanche ancora a partorire e vogliono chiusere l'unico baluardo che aveva sul territorio. Sicuramente sarà un baluardo per tutto il territorio regionale. Grazie a tutti!